Noi siamo molto felici, sia come Coni che abbiamo supportato questa iniziativa, sia come presidente del comitato organizzatore di questo importante appuntamento che vede schierati tantissimi atleti con l'idea di cullare un sogno, quello di arrivare a Roma e giocarsi le qualificazioni all'internazionale d'Italia. Grande merito al maestro Moscatelli, vicepresidente della Fit Umbria, ma in particolar modo al maestro Moscatelli che essendo lui uno sportivo sognatore quando mi ha proposto questo appuntamento non potevo che sostenerlo, promuoverlo e lavorare insieme a lui perché si realizzasse. Siamo tutti pronti, oggi lo presentiamo, pronti partenza via.